Abbiamo deciso di istituire questo fondo start-up, quindi Accendi la Speranza letteralmente per le start-up insieme alla Regione Abruzzo utilizzando fondi europei destinati al capitale di rischio. Questo ha portato chiaramente a un risultato straordinario, in dubbio visto che abbiamo finanziato 26 start-up e questo attraverso quindi l'investimento di 14 milioni di euro. Forse siamo la prima Regione in Italia a utilizzare interamente un capitale pubblico per quello che è un settore tipicamente privato. Siamo estremamente contenti del risultato, speriamo che adesso il nuovo rifinanziamento di start-up possa portare ad avere in Abruzzo una Regione dove sia facile fare start-up, una Regione dove ci sia un ecosistema per le start-up e dove possano venire anche da fuori Regione giovani di tutta Italia con buone idee perché qui c'è qualcuno che premia il capitale umano e che premia anche la bontà delle idee.